In merito alle manutenzioni dei carrelli elevatori, secondo noi un'azienda, una media e piccola azienda italiana non dovrebbe in alcun caso rivolgersi ad aziende troppo grandi o ad aziende troppo piccole. Il motivo qual è? Le aziende molto grandi sono estremamente care, hanno un costo elevato di manodopera e utilizzano tutti i sistemi per monitorare la batteria e la macchina impedendo all'imprenditore di far intervenire qualcun altro per la riparazione. Quindi è un costo eccessivo. Sono utili se sei una multinazionale, se hai una squadra di 30 carrelli e se per caso uno dei carrelli ti si ferma, sei rovinato, perdi migliaia e centinaia di euro al giorno, allora sicuramente affidarsi ad una di queste aziende è un'ottima cosa. L'altro sbaglio è rivolgersi al piccolo tecnico. Sappiamo che in Italia le aziende si sviluppano un po' così, uno fa il dipendente e poi ad un certo punto si stanca, si mette in proprio però clona un po' il lavoro precedente ma non ha realmente tutte le capacità imprenditoriali e tutte le conoscenze tecniche necessarie per sviluppare la propria attività e magari il piccolo tecnico fa il prezzo stracciato perché ha bisogno di lavorare, perché si sta creando il lavoro per se stesso, però in realtà non conosce le norme, non conosce le certificazioni, non conosce le norme sulla sicurezza, non possiede assicurazioni, non sa tante cose che invece sono di vitale importanza e in questo caso potrebbe metterti in pericolo, potresti incorrere in multe, in sanzioni e via dicendo. Mentre noi offriamo un servizio che si posiziona a livello medio tra queste due tipologie di aziende. In primis perché siamo anche molto focalizzati sul commerciale e siamo in contatto con la maggior parte delle aziende in Italia per quanto riguarda le carriere elevatori, abbiamo delle partnership commerciali molto interessanti, quindi siamo sempre in grado di garantire lo stesso servizio che offre la multinazionale, però lo possiamo fare con prezzi più contenuti, quindi siamo sicuramente posizionati ad un livello medio che è il livello giusto per le aziende italiane. Quindi se vi interessa sviluppare questo discorso delle manutenzioni con noi, contattateci, usate i siti, qualunque tipo di canale, Whatsapp o quello preferite e vi daremo tutte le risposte.